Ciao a tutti cari ascoltatori meteo e ben ritrovati in questo nuovissimo video Oggi in questo appuntamento andremo a fare un'analisi molto dettagliata per quanto riguarda le aree a rischio Forti tempeste, quindi forti temporali con venti fino a 100 km orari e anche grosse grandinate Che ci sono già state e si sono presentate nella giornata di ieri, anzi nella serata di ieri Insomma tutto questo lo andremo ad analizzare dettaglio per dettaglio in questo video Ma come sempre se siete interessati a previsioni meteo precise, dettagliate ed affidabili minuto per minuto Siete nel canale perfetto, infatti per rimanere sempre aggiornati vi basterà iscrivervi al canale Cliccando il tasto iscriviti qua in basso a destra, attivare la campanella e lasciare un bel mi piace se il video ti sta piacendo Tantissimi di voi non sono ancora iscritti ma se tutti voi vi iscrivesti saremo già molto più di 70.000 iscritti Quindi deve essere una grassa mano anche a me Partiamo subito dal vedere la situazione delle temperature, temperature che già nella giornata di oggi hanno subito una grandissima diminuzione Ma a dire la verità è già a partire da ieri sera con un ingresso di termiche di circa 15 gradi a 1500 metri Mentre invece ancora l'estremo sud è vittima di aria molto calda che però nelle prossime ore a partire dal pomeriggio, tardo pomeriggio e durante la nottata Poi inizieranno a diminuire anche in queste ultime regioni Per quanto riguarda invece il nord addirittura ci sarà un ingresso di termiche di circa 6-8 gradi a 1500 metri Su parti di Liguria, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana Che poi andrebbero comunque a portarsi su valori termici a 1500 metri di circa 10 gradi Ma il vero minimo di pressione si andrebbe a posizionare proprio sulla Corsica Così dando vita alla formazione di possibili temporali soprattutto sull'area centro-settentrionali Anche l'estremo sud sarà colpito da questa fase un po' di stabilità in maniera più risicata Non in maniera piena ma soprattutto subirà una diminuzione delle temperature anche in quest'ultima zona Molto molto sensibile Partiamo subito dal vedere le precipitazioni Le precipitazioni che ci saranno a partire dalle prossime ore Andremo a analizzare soprattutto le prossime 24 ore Quindi nella giornata di domani fino alla serata di domani Perché già a partire proprio da domenica inizierà il forte maltempo E come inizierà? Allora l'instabilità in questo momento si sta già facendo vedere sulle regioni del centro-nord Infatti nuvolosità è già presente su gran parte delle nostre regioni settentrionali e anche centrali In un altro tempo si inizierà a far vedere già a partire dal pomeriggio di oggi Quando i primi temporali si andranno a sviluppare Soprattutto sull'area alpine e prealpine del nostro estremo nord E a partire dal tardo pomeriggio lo sviluppo di forti temporali Piccole cellule temporali Che potrebbero già iniziare a formarsi sulla pianura del Piemonte e parte di Mila Romagna Instabilità che potrebbe già generarsi anche sulla zona alpina e prealpina della Liguria Di Ponenti e poi a partire dalla serata Queste precipitazioni inserrebbero a intensificarsi E anche ad espandersi A partire soprattutto dal basso Piemonte e dalla Liguria Durante poi la serata e nottate precipitazioni molto intense Tenderanno a svilupparsi proprio tra Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna Infatti durante la nottata le aree che potrebbero subire maggiori precipitazioni Sono proprio quest'ultime tre regioni E durante poi la mattinata Forti temporali inizierebbero già a svilupparsi A questa volta sulla zona appenninica del nord ovest della Toscana Sulla parte della Lombardia, del Trentino, del Piemonte e anche della Liguria Questi temporali poi durante la mattinata e durante soprattutto il primo pomeriggio Potrebbero andare ad intensificarsi Infatti durante proprio le ore più calde della giornata Quindi tra le due e le quattro potrebbero iniziarsi a sviluppare fortissimi temporali Soprattutto sull'area interna della Toscana, dell'Emilia Romagna E parte anche di Abruzzo e Marchi Stabilità che poi si andrà anche a generare soprattutto sul sud del Piemonte E questi temporali poi durante la nottata potrebbero raggiungere anche le coste come Liguria e Toscana Insomma andando a vedere un'analisi molto dettagliata per la giornata di domani fino alle 20 circa Noi andiamo a dividenziare le aree a maggior rischio di forti temporali Soprattutto tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Trentino Anche il Veneto potrebbe presentare dei temporali ma in maniera meno intensa Per quanto riguarda anche i venti I venti che potrebbero raggiungere fino anche ai 100 km orari nei temporali più intensi E le agrandinate potrebbero essere di media grande dimensione Come abbiamo visto nella giornata di ieri I chicchi di grandini anche abbastanza grossi fino a 3 cm di diametro Sono caduti soprattutto sul nord Italia E non penso che mancheranno anche nelle prossimi giorni Soprattutto tra domenica, lunedì e martedì C'è la fase più intensa di questo maltempo Andando poi anche a vedere le raffiche di vento Raffiche che inizieranno già a farsi intense sulle nostre regioni A partire da queste ore Infatti già in questo momento raffiche di vento fino anche a 40-50 km orari Stanno interessando parte della Toscana, delle coste del Medio e Basso Tirreno E anche della Sardegna Quest'ultima è la regione in questo momento più ventosa Poi nella giornata di domani come possiamo vedere Il vento si andrà a intensificare ancora di più Soprattutto sulle coste del Medio e Basso Toscana E ancora di più sulle coste in parte della Corsica e della Sardegna Soprattutto con raffiche minocche a 70 km orari Durante poi i temporali, come detto poco fa Le raffiche potrebbero superare anche i 100 km orari Io andrei quindi rapidamente a fare un piccolo riassunto Soprattutto le aree che potrebbero avere allerte un po' più pesanti Come ha visto in questo momento sono Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia e Trentino Dove in queste ultime regioni io andrei ad emettere un allarme di colore arancione Soprattutto per le aree interne, per le aree costiere della Toscana all'erta gialla Invece arancione soprattutto su Piemonte, Liguria, Lombardia e Trentino Giallo su coste di Toscana e Emilia-Romagna Arancione sulle aree interne, soprattutto del Parmense Pericolo, come stavo dicendo, di forti temporali E sicuramente questo è l'inizio di tantissime precipitazioni Che sono attese proprio per i prossimi giorni Io vi ringrazio della visione Come sempre, se non l'avete ancora già fatto Mi invito ad iscrivervi al canale Lasciate un mi piace e attivate la campanella Per rimanere sempre aggiornati Con novissimi video, del MET Italia è tutto Vi auguro per un proseguimento